quindice e quarantuno fare le valigie Luca Carboni ce l'abbiamo qua in diretta ciao Luca ciao ciao a tutti benvenuto innanzitutto allora eh Luca beh eh oggi un appuntamento importante per noi perché eh insomma ti aspettavamo da un po' poi ci stanno scrivendo in tantissimi ma è vero ma arriva ma quando arriva è qua ce l'abbiamo qua allora siamo qui per parlare di questo tuo nuovo lavoro senza titolo sì a cinque anni dal dall'altro tuo eh disco di di inediti che era le band si sciolgono a due anni da quel capolavoro che mi era piaciuto tantissimo sì tantissimo questa diciamo reinterpretazione di tutti i grandi cantautori degli anni settanta e adesso arrivi con senza titolo sì senza titolo è appunto il mio album nuovo di canzoni mie dopo questo maggio i grandi cantautori che io ho scoperto attraverso i miei fratelli più grandi perché sono il quarto di cinque figli quindi anche se non ero di quella generazione li ho vissuti lo stesso e adesso finalmente col mio album che non ho voluto così segnare con una frase una parola ho voluto ho preso in prestito dall'arte figurativa questo non titolo classico che i pittori usano per quando non vogliono che l'opera sia contaminata da parole ma insomma deve rimanere libera e mi piace l'idea che la gente entri così liberamente dentro a tutte queste canzoni queste parole e i titoli che ci sono dentro cioè sentirsi liberi di farsi questo viaggio attraverso la tua musica senza pensare a cose già che c'è una guida esatto una guida da seguire adesso prima di addentrarci in questo disco che cosa ti piacerebbe che arrivasse di più ma sai questo è un album come tutti i miei album che ha un po due anime è un'anima più leggera abbiamo appena sentito fare le valigie a me piace la musica io sono sempre stato contaminato anche da così non dico la dance o l'house però c'è sempre stato qualcosa di quel mondo che era più che era diverso da quello dei cantautori che io ho voluto portare dentro la mia musica l'ho sempre sentito mio quindi canzoni come le valigie o come lo posso dire casto che bello l'amore sono le anime più solari e più anche leggere del disco però dentro i miei dischi c'è anche sempre una parte un po più intima un po più anche pesante tra virgolette e in questo caso sono due anime anche musicali perché l'album è fatto al 50% di una dimensione elettronica e un 50% di una dimensione acustica senti Luca vabbè come stavi dicendo tu comunque un disco abbastanza tutto sommato positivo diciamo tipo Riccione Alexander Plaz forse la canzone che è un pochino no un pochino meno tra virgolette positiva rispetto alle altre esatto esatto sì è un album dove anche attraverso i testi viene fuori la voglia anche se stiamo vivendo un momento difficile mi piace l'idea di vivere e anche di trasmettere gli amici a mio figlio comunque speranza positività la possibilità che non dobbiamo dare tutto per scontato ogni notizia che ci arriva anche negativa noi insomma mi sembra che in qualche modo possiamo ribaltarla al positivo insomma almeno mi piace l'idea che si possa essere così l'unica canzone un po' amara dell'album è Riccione Alexander Plaz che magari dopo ascoltiamo dove io faccio più che altro una critica alla mia generazione che negli anni 80 poi insomma ci spiegherà bene Gino Lattino che è un esperto negli anni 80 c'era una grande leggeresse una grande voglia di vivere di creatività di un mondo nuovo di intendere la musica ma anche tutto la politica avevamo tante idee nuove e poi magari adesso la mia critica è quella che adesso che siamo arrivati intorno ai 50 anni se analizziamo dopo quella prima grande fiammata magari anche sul sociale sul politico siamo intervenuti pochissimo ma sì tutto l'album in realtà parla un po' dal primo brano fino a questa che stai dicendo tu liberi di andare il primo brano si chiama non finisce mica il mondo l'idea che insomma dentro di noi di ascoltare anche il nostro le nostre esigenze più profonde che molte volte così teniamo un po' facciamo finta di non sentire le teniamo un po' soppite un po' nascoste invece ci inviterebbero molte volte a uscire così dalla logica dalla routine di tutti i giorni dalle cose che diamo per scontato anche anche come inevitabili come credo che insomma la vita non sia stare dentro a una pista di formula 1 dove magari puoi andare sempre più forte ma vedi sempre le stesse cose è bello anche uscire ascoltare le proprie esigenze e cercare anche il nuovo osare rischiare se pensiamo che 20 poco più di vent'anni fa non c'era internet per dire il mondo era diversissimo e all'epoca sembrava già che non si potesse inventare niente invece è cambiato ancora tutto quindi anche nelle piccole cose noi possiamo cambiare tantissimo senti invece adesso due parole visto che siamo per ascoltare Riccione Alexander Plaz mi piacerebbe che tu mi parlassi di questa canzone sì come ti dicevo prima è una canzone dove faccio una critica un po' alla mia generazione e l'idea di mettere Alexander Plaz è perché io ho avuto la fortuna nel 1984 quando uscì il mio primo album anzi stavano ancora pubblicando in Italia il mio primo album era uscito da pochi giorni e Dalla Lucio Dalla e gli stadio mi invitarono ad aprire un concerto con loro in Germania ed era Berlino Est di là dal muro nel mondo comunista quindi ho vissuto questa esperienza di arrivare là mille controlli dei Vopos che insomma prima di entrare di là era veramente un'altra fila incredibile di controlli poi quando arrivamo di là rimasi sconvolto perché nel parco vicino al posto dove dovevamo suonare c'erano gruppi di ragazzi che clandestinamente si vendevano dei vinili tipo Madonna e Bruce Springsteen praticamente vedevo le stesse copertine di dischi che avevamo nei negozi in Italia quindi e lì mi venne questo flash che che appunto la musica volava al di là di dei muri al di là di tutto e oltretutto anche oggettivamente i ragazzi i ragazzi dell'est ascoltavano la musica dell'ovest perché le onde radio andavano di là e quindi sapevano praticamente tutto della vita che facevamo noi e dei dei nostri gusti musicali ed erano gli stessi anche loro. Senti Luca tra l'altro il 7 dicembre parte senza titolo tour. Sì parte questa tournée volevo di solito si parte dall'anno nuovo quando un disco esce in settembre e ottobre invece volevo anticipare essere già quest'anno sul palco e quindi faremo questi nove concerti dal 7 al 20 al 20 di dicembre saremo anche a Torino. Sì il 19 di dicembre quindi ci vedremo di nuovo. La penultima data di questa prima parte. Ok senti Luca io sarei ancora delle ore però so che hai fretta e so anche che i tempi radiofonici a me sono quelli che sono. Quindi grazie davvero per essere stato qui con noi. Grazie a voi davvero e un saluto a tutti.